Andres è il primo esistente in assento No, poi ne lo giriamo, vai, vai così avanti C'è Andres, a posto Andres, allora il figlio era quello di Valle Buonanque Andres, Andres Andres se ne potete tutti Perché è arrivato a fare il mismo programma Andres, mi sapevo dire che quello è Non è che capita di rarmi Non è che capita di rarmi Allora, tu hai un pubblico, sei così pubblico Allora, io andavo a categoria più sui 50 anni Buonanque Vai, lei c'è Buonanque 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 Sira, prima no 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 va 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 non era una vera c'ho fatto paura non era una vera non era una vera si si ma ci hanno fatto le sue stesse però adesso lo prendiamo i vitri non lo vedo le scatole perfetto va bene andiamo con la storia femminile vado stai stai stai